il Milan vince 2-0 nonostante Caprari abbia sbagliato un rigore e Tonali sia stato espulso al 33esimo minuto infatti ragazzi questa cosa che il Milan è andato subito in vantaggio al 15esimo ancora con Franchesi su rigore e Franchesi sta segnando tantissimo in queste partite, veramente in forma, poi vabbè rigolo no comunque segna e al 33esimo è stato espulso Tonali, quindi lì ragazzi la partita un pochino si era compromessa il Benevento poteva provare ad attaccare e a ribaltare appunto la storia della partita però non ci è riuscito, il primo tempo finisce così e appena all'inizio del secondo tempo precisamente al 49esimo minuto va in gol Rafael Leao su assist di Rebic quindi 0-2 Milan poi al 61esimo Caprari sbaglia il rigore e da lì 1-2 potevano appunto cercare di riacciuffare il Milan perché comunque con un'espulsione 1-2 magari attaccavano, attaccavano e riuscivano appunto a trovare il gol del pareggio e guardate qua ragazzi, errore clamoroso di Caprari, numero 17 il Benevento spiazza Donnarumma ma calcia fuori di diversi metri si resta solo 0-2, mamma mia, di diversi metri anche tanto, intanto finisce qui la partita quindi il Milan che vince 2-0 con il Benevento e si riprende la testa della classifica, un punto sopra l'Inter mentre il Benevento resta decimo a 18 punti, comunque grande campionato del Benevento e la squadra sopra il Benevento è una squadra che fa schifo, non dico niente e niente, quindi Milan si tiene la testa della classifica, continua a vincere e niente, buon per loro, invece la Lazio sta facendo schifo vabbè, 2-0 per il Milan, ciao ragazzi